buongiorno gente eccomi qua un nuovo video forse un video vlog scusate per le voci e mia mamma mia sorella diciamo questo è un vlog un po' particolare metà vlog e metà video normale credo in pratica oggi è il compleanno di mio marito fa 27 anni e posso parlarne su youtube perchè lui i miei video non li vedrà mai appunto sto al lavoro non ho tempo di vedere i miei video e niente ci saranno tutti i nostri amici familiari i parenti e vi farò vedere a patrish fare anche il mio assistente giovanni che mi dà una mano oggi a prendere i dolci e portarli in pratica ci ha fatto una mini festa con patatini e roba varie e comunque noi andiamo a prendere questa roba e la portiamo qua vi farò vedere l'acco del tempo che noi andiamo a prendere la roba non posso stare con un cellulare in mano davanti alla gente perchè mi fanno prendere per pazza purtroppo qua non tutti capiscono che significa lavorare con youtube prendiamo e facciamo questo video facciamo il video quando prepariamo la roba e ci diventiamo e giochiamo tutti e poi tutto il resto della giornata si comincia a fare video spero solo che della mangio a parte della gente balla e si diverte spero se no è un video a noi io se no lo faccio ok allora ci rivediamo più tardi e niente ci vediamo ok ragazzi eccomi qua allora questo è il trucco che mi sono fatta per stasera però ovviamente si rovinirà con la giornata perchè comunque devo scendere e andare a prendere delle cose diciamo alla pasticceria e niente sicuramente se si rovinirà me lo devo aggiustare per dopo dopo vi farò vedere l'outfit non è chissà che granchi perchè non ha mai un pantalone così e niente dovrei fare il blog però comunque deve arrivare l'amico mio spero che arriverà molto presto e mi deve dare una mano perchè comunque sto solo io con la piccolina ho messo le mani non mi sono andata dal dentista sono rimasta sola e vi farò un piccolissimo blog ve lo dico se la festa è movimentata vi farò il blog pure della festa se no vi metterò solo le foto o un pezzo di video di quello che ho fatto la tavola come l'ho messa come l'ho fatta e niente basta vabbè ci rivediamo fra poco salve a tutti eccomi qua sto con giovanni il mio aiutante stiamo andando a prendere la roma e pasticceria giusto qui si spiega spiega vabbè stiamo andando a prendere la roba del buffet va 7 50 e quale ti pensi da centrile si ma fa si ma fa una bella festa no ma non vado a fare le mie di con mamma non vado a fare le mie di con mamma ma non vado a prendere fettacolo e sparchare e non è mai vado a fare le mie di cosa io e lui sono piena di peli faremo una challenge challenge tipo challenge però diciamo un altro tipo no la pizza challenge facciamo una challenge se canti o balli verdi oppure lei o io bisogna dire una frase e poi quello o quella che sta ascoltando la musica deve capire la frase che sta dicendo ad esempio questa estate bella io devo capire con la sua e con la bocca ecco con l'abbiale e poi e altre tipo di challenge che poi se volete ce le potete elencare nei commenti potete anche dici voi che challenge possiamo fare ok ragazzi vediamo fra poco vi vorremmo vedere i pacchi e la pasticceria quale c'è d'abdo ok questa roba a posta ok a dopo questo buco blano amici ciao 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 a poco buco discorso 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 prima discorso BANA non posso BANA 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 che cosa fanno eh oh discorso discorso grazie a voi grazie a tutti e grazie a tutti ok ragazzi questo è tutto che ho fatto vedere la festa di mio marito di là stanno ancora festeggiando un po' parlando di tutto io lo sto prendendo qui nel bagno perché è un po' facile da tutti parlare questo è tutto ci vediamo in prossimo video grazie per avermi seguito mettetevi un mi piace se volete e iscrivetevi